Inizia il match, quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. Dentro o fuori, subito Pesaresi in difficoltà con il net Patry, attacca a palla alta, pallonetto, Zaitsev di piede. Poi Ishikawa che non attacca, lo fa invece Vitelli, muro di Simone, Anzani. Per la Cucinovice Vita Nova, dopo il salvataggio di piedi. Primo time out per Roberto Piazza, Anzani già flotto sullo set. Porro, Pipe di Mergareco, assegnò Alex Niccolò. Pesaresi ancora difficoltà di sezione, Mergareco la piazza su Zaitsev, De Cecco ricostruisce con l'attacco di Bottolo, Murato. Dall'Oser ancora Bottolo, le mani di Jean Patry su Mattia Bottolo, Murato. Mattia Bottolo, Marco Vito, De Cecco a forzare su Ishikawa. Porro vuole l'attacco da quattro di Mergareco, parallela interna trovata da Osniel Lazaro, Mergareco. Anzani, riceve Ishikawa, Bonacchi apre per lo stesso Ishikawa. Velocissimo, Yuki Ishikawa. Yuki Ishikawa. Il net aiuta Bottolo, De Cecco va ad Alex Niccolò, diagonale, lunga, profonda, verso zona 5 da parte del 19enne. Pesaresi, Porro dai quattro metri, spinge per Mergareco, pallonetto, ci arriva, no non ci arriva, dai, fermo. Con la sua tipica rincorsa, Jean Plot da zona 6 poi, su Balasso, ricezione sbagliata da Fabione. La sua Jean Plot su Bottolo, De Cecco va da Niccolò, parallela, stupenda, di Alex Niccolò. Si chiude il primo set. Ci sono i pesaresi, Porro attacca con Matteo Piano. Milano è la 4-3. Balasso in attenzione, De Cecco per Anzani. Lozer, Mattia Bottolo, De Cecco, non si capisce con Cineniez, rimedia in qualche maniera. Nikolov, Porro apre in pipe per l'attacco di Yuki Ishikawa, vincente. Lozer, Bottolo, De Cecco, Nikolov, muro di Jean Patry, più 2, Allianz. Il capitano, Luciano De Cecco, in Jean Plot su Merghereco. Porro apre per Piano, assegnò. Ora può effettuare il servizio, ripartiamo dal 14-13 Milano. Porro in primo tempo con Lozer, vincente. A tutto braccio, Lozer, su Jant. Non chiude Cineniez, Merghereco la difende in qualche maniera. Zaitsev, poi Cineniez tenuto da Merghereco. Attacca Patrya, segno. Centrato. Alex Nikolov al servizio, per la cucina dove c'è vita nuova. C'è Ishikawa, attacca Merghereco, pallonetto arpionato da Cineniez. Ancora Merghereco, arriva Jant, triplicare il muro. Palla in quattro per Marlo Jant, arriva da dietro, l'appoggia nel campo dell'Allianz. Porro può ricostruire per Patry, pallonetto c'è De Cecco. Palleggia Nikolov per Marlo Jant. Tolgono le mani i giocatori a muro. Marlo Jant, un cambio solo. E quindi Marlo Jant al servizio 24-21. Jant a tutto braccio su Ishikawa. Porro per Patry, mani out. Uno pari all'Eurosuole, forum di Civitanova, Marche. La riceve Jant, De Cecco per Bottolo. Tenuto da Loser, Coppe Patry. Ishikawa sulle mani di Cineniese per rigiocare. Eccolo qua Ishikawa. La difende lunga. Jant ricostruisce Porro per Patry. Parallela in campo di Jean Patry. Da Roberto Piazza verso zona 1 per andare in diagonale su Jant. De Cecco vuole l'attacco da 4 di Bottolo. Tenuto ancora Mattia Bottolo. Patry, bag è rovesciato per l'attacco di Ishikawa. Mamma mia dove l'ha messa. 11-5 per l'Allianz. Si sposta in zona 5 ora Matteo Piano. Balaso Bottolo riesce a scogliere il servizio a Matteo Piano. La lube. 12-6 Allianz. Paolo Porro porta. Riceve Anzani. De Cecco vuole Zaitsef. Cerca la decisione di Mergareco. Palla in mano per Porro Ishikawa. Da 2 in diagonale stretto. Terzo set. 1-0 Pari. Lo Zer. D'amico Jant in attacco murato da Matteo Piano. Mergareco. Leceve D'amico. Attacca Zaitsef. Muro di Matteo Piano. Su Ivan Zaitsef. Tiene Nico Pesaresi. Porro per Patry. La difesa a una mano di Fabio Balaso. Gabi al primo attacco. Murato. Muratona di Matteo Piano. Il servizio di Mattia Bottolo. Secondo Steadball Allianz. Ace di Mattia Bottolo. Yikishikawa tiene Porro. Vuole l'attacco di Eba. Di Pou. Secondo e il terzo set. Yikishikawa inizia il quarto set. De Cecco vuole subito l'attacco di Mattia Bottolo. Murato da Jean Patry. De Cecco su Mergareco. Attacca da quattro. Mergareco. Muro di Mattia Bottolo. Loser. A piazzarla su Bottolo. De Cecco deve spostarsi. La giusta in quattro per Zaitsef. Lunga. La difesa di Loser. Porro per Ishikawa. Pipe. Vincente. Yikishikawa. La zona verde là dove c'è lo sponsor. Perché la zona di ricaduta del suo servizio. Jean Flotso su Mergareco. Porro per Ishikawa. Arriva Zaitsef. Nikolov. La rialza su. De Cecco. Vuole Porro. l'attacco di Piano. Vincente il primo tempo di Matteo. Cevè Nikolov attacca Sinanese. Si rivede il francese. Paolo Porro. Uno che può far male da nove metri. Cevè Nikolov. De Cecco vuole l'attacco di Sinanese. Ishikawa su Balazzo. De Cecco vuole Mattia Bottolo. La difende Pesaresi. E allora Porro chiama Mergareco. Apertissimo il muro Lube. Enrico Diamantini. Chiamato in casa al posto di Simon Anzani. Jean Flotso su Pesaresi. Porro per Patry. La piazza. Jean Patry. La scusa del capitano. Nett Balazzo con in qualche maniera De Cecco per Nikolov. Palla che torna di qua. Muro di Paolino Porro su Alex Nikolov. Balazzo c'è. Attacca Zaitsev. Muro di Yuki Shikawa sullo Zara. Vola d'amico. Palla che torna nel campo dell'Allianz. attacca in paio Pichikawa. Più quattro Allianz. De Cecco arma Cineniez. Che gira verso il posto uno. Paolo Porro. Matchball Allianz. diceva Balazzo. Attacca Mattia Bottolo. La palla è out. Mattia Bottolo. Compute molto difficile per la Lube. Cineniez, Pesaresi, Porro va da Ishikawa. L'attacco di Yuki Shikawa è toccato da Mattia Bottolo. Milano vola alla Final Four del Monte Coppa Italia per il secondo anno consecutivo. Milano espugna con un 3-1. L'Eurosuole Forum di Civitanova Maschie.